Decine di auto danneggiate al rione Paterno ad Eboli. Da diverso tempo molti ebolitani si sono ritrovati le auto danneggiate con ammaccature, ruote forate, danni agli specchietti ma soprattutto con la carrozzeria dei veicoli graffiata tra via Pio XII, via Leone XIII e via Caduti di Bruxelles. Diverse le denunce giunte ai carabinieri continuati tra cui pure quella di un poliziotto locale ma nelle ultime ore un residente grazie alle immagini di una dashcam o una telecamera montata a bordo di un'autovettura avrebbe immortalato il presunto autore degli atti vandalici e si tratterebbe dei componenti di una famiglia di negozianti della zona. Banali ducini sarebbero alla base della vendetta colpi di chiavi per graffiare le carrozzerie delle autovetture in sosta. Ora le immagini come pure le denunce sono al vaglio degli inquirienti. Inoltre ieri si sono vissuti anche attimi di tensione nel riole Paterno per via di un'auto di grossa cilindrata che scorazzava a tutta velocità. Sul posto è giunta la polizia locale di Eboli per cercare di identificare il responsabile. Dall'immagine delle videocamere private si spera nell'identificazione dell'automobilista spericolato.